Il dottorato Big Data e Intelligenza Artificiale, che ho l'onore di coordinare, lavora su due linee di ricerca pensate per affrontare due delle principali sfide del prossimo futuro. La prima è la transizione digitale, la seconda è il passaggio a modello rigenerativo dell'economia che presti maggiore attenzione alle condizioni di vita dell'uomo e dell'ambiente, ovvero il passaggio all'economia circolare e al concetto di Industria 5.0. Si tratta di un dottorato industriale, quindi nato in collaborazione con aziende e enti nazionali per l'analisi dei dati, al fine di formare ricercatori e ricercatrici con una preparazione scientifica, che copre due ambiti strettamente diversi ma strettamente connessi. Il primo è il data science, quindi l'analisi statistica e computazionale dei dati, la gestione di grandi mole di dati, il Big Data e gli algoritmi per l'interpretazione dei dati, inclusi quelli per l'apprendimento automatico, cosiddetti algoritmi di machine learning. Il secondo ambito è l'intelligenza artificiale, quindi tutte quelle competenze per progettare macchine e sistemi in grado di applicare la conoscenza ricevuta dai dati nella manipolazione dell'ambiente circostante, come potrebbe essere per esempio un processo di automazione industriale. Il corso di dottorato è quindi per sua natura multidisciplinare e comprende corsi che saranno tenuti da studiosi provenienti da vari ambiti, da quello matematico-statistico, quello giuridico-economico e ingegneristico-informatico. Inoltre il programma di formazione prevede, oltre ai corsi tecnici, anche corsi in ambito linguistico e comunicativo, relativi per esempio alla valorizzazione dei risultati della ricerca, alla tutela della proprietà intellettuale e alle implicazioni etiche della ricerca. Il dottorato ha caratteristiche di internazionalizzazione, con almeno un semestre di studio e di ricerca condotto all'estero, e anche un forte orientamento all'innovazione e al trasferimento tecnologico, con 18 mesi di studio e ricerca da svolgere in contesto aziendale. Il dottorato mette a disposizione 16 posti, di cui 12 con borsa, e di queste 12, 10 sono cofinanziate dalle aziende con cui abbiamo collaborato per la costruzione del programma di questo dottorato. Il bando è pubblicato nel sito di Universitas Mercatorum. Non mi resta che salutarvi e augurarmi che vi scriviate numerosi per intraprendere insieme un cammino di studio e di ricerca, per dare risposte e soluzioni di sistema alle maggiori sfide del nostro tempo, la transizione digitale e lo sviluppo sostenibile dell'economia.